e se è vero che io resto a casa allora vuol dire che pure lei rimane in garage ed ecco in questo rudimentale video fatto in casa anzi a casa o meglio in garage vi elencherò qualche regola d'oro suggerimento per fare in modo che quando torneremo a guidare al termine della quarantena perché questo accadrà allora troveremo la nostra auto e le sue componenti nella miglior forma possibile batteria le medio lunghe soste minano sicuramente l'autonomia delle nostre batterie soprattutto se consideriamo che le auto moderne hanno spesso e volentieri degli assorbimenti vedi l'antifurto bene ci sono vari metodi per assicurarci la corretta messa in moto alla fine della quarantena il primo quello che preferisco è servirsi di un mantenitore di carica certamente bisogna già averlo o ordinarlo sperando nelle scorte ad esempio su amazon o quant'altro poiché come sappiamo non è un bene di primissima necessità il mantenitore di carica manterrà la carica della vostra batteria basta collegarlo alla batteria stessa ai poli oppure ai rimandi come nel mio caso perché la mia bmw ha la batteria nel vano bagagli e poi farla alimentare tramite una normale presa elettrica ovviamente bisogna trovarsi nel proprio box oppure in un posto auto condominiale non è possibile farlo all'esterno perché all'esterno si può sempre se ci sia un po' organizzati prima o se si riesce a ordinarlo installare anche un piccolo stack a batteria ci sono accessori che costano 10 o 20 euro facilmente installabili che permettono di escludere la batteria senza dover staccare i poli altrimenti alla vecchia maniera bisogna tramite gli appositi attrezzi escludere la batteria allentando e poi staccando i poli in questo caso si preserverà quanto più possibile la carica della batteria attenzione però poiché in caso di stacca batteria o comunque esclusione dei poli della batteria tutto l'impianto elettrico viene escluso di conseguenza setup dell'auto radio memorizzate prima il codice poiché all'accensione vi verrà richiesto e anche comandi come la chiusura da telecomando la centralizzata e quant'altro non funzioneranno più quindi è ovvio che bisogna capirlo e saperlo prima per riuscire poi a intervenire una volta che si è staccata l'alimentazione se ad esempio volete lasciare un dito di finestrino aperto dovete farlo prima ovviamente poi si apre si chiude l'auto con la chiave per chi ce l'ha perché ormai non è neanche più scontato questo ovviamente chi lascia l'auto in strada deve per forza farsi coraggio e staccare la batteria se vuole escludere l'impianto elettrico altrimenti visto che grosso modo siamo più o meno quasi tutti a casa uscire di casa per magari buttare l'immondizia e si fa anche un salto in macchina e la si mette in moto se non tutti i giorni una volta ogni due giorni in questo caso facendo girare l'auto per qualche minuto e fa bene anche a tutto il resto si cerca di aiutare anche la batteria a sopravvivere alla quarantena ps se non uscite perché siete pigri o non avete un cane o qualcuno butta l'immondizia per voi o semplicemente perché la vostra auto non è a portata di mano mettete in conto di doverla mettere in moto con un booster un domani ovvero una batteria portatile che tramite cavo vi darà quella qui in più anzi quel qui necessario per la prima accensione qualora non bastasse il booster allora bisognerà cambiare batteria mi sa pressione pneumatici so perfettamente che tutti noi controlliamo almeno ogni due settimane la pressione delle nostre gomme che è fondamentale e lo è anche quando non utilizziamo per lungo tempo l'auto poiché a causa dell'escursione termica del peso della macchina se non viene utilizzata utilizzata l'auto quindi se la gomma non fa strada ci può essere una perdita di pressione lieve prolungata nel tempo e quindi si deforma la gomma alla lunga si ovalizza per evitare questo è buona norma sarebbe buona norma gonfiare oltre misura lo pneumatico quindi se la vostra pressione di riferimento non lo so è 2,5 potete portare a 3,5 bar lo pneumatico ricordandovi però di riportarlo alla pressione corretta prima di mettersi in marcia una volta terminata la quarantena potete farlo grazie magari a un compressore portatile volevo dire fatevelo pestare ma non si può neanche vedere nessuno quindi no o ce l'avete o lo ordinate protezione dell'auto allora se voi siete forniti di un bel box per un periodo di quarantena che si spera non sarà lunghissimo potete anche lasciare la macchina senza telo ci sono poi teli molto sottili di plastica come quelli che vengono utilizzati per coprire i mobili magari quando si fa un lavoro interno a un'abitazione possono essere sufficienti per tenere lontana la polvere oppure se siete premium sarete sicuramente forniti di teli felpati molto soft per uso interno mentre se l'auto sta all'esterno allora la protezione da umidità caldo freddo intemperie acqua grandine speriamo di noi questo periodo perché sarebbe veramente drammatico ecco allora lì si necessita di teli fatti in maniera diversa con una consistenza e un costo anche differente credo che però farò un video a riguardo poi c'è anche una schiera di persone che ritengono che in garage il telo di plastica è meglio non utilizzarlo perché la polvere che si deposita al di sotto poi fa attrito con la plastica e potrebbe graffiarsi la carrozzeria anche questa potrebbe essere una bella tematica da affrontare anzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate a riguardo perché la vorrò approfondire e poi in una fase di emergenza come questa in cui siamo stati travolti alla velocità della luce da qualcosa che non conoscevamo figuriamoci se abbiamo avuto il pensiero di comprarne un telo almeno se non abbiamo un telo esterno proteggiamo l'interno dell'abitacolo con un lenzuolo copriamo la plancia il cambio il volante per fare modo che il sole non rovini tessuti o plastiche del nostro bellissimo abitacolo i finestrini piccola nota di costume se siamo nel nostro box privato oppure se siamo nel parcheggio condominiale coperto di persone che conosciamo da un sacco di cui ci fidiamo lasciamo un dito il finestrini anteriore e posteriore fate voi aperti in maniera tale che ci sia un ricircolo naturale dell'aria mentre se lasciamo l'auto all'esterno chiusura ermetica e via così posizione del cambio e frenatura in generale se vi trovate in un ambiente protetto e rassicurante come il vostro box che è anche perfettamente in piano il cambio con una marcia inserita è sufficiente per tenere bloccata la vostra autovettura se non siete proprio sicuri che il vostro box sia in piano qualunque cosa potete applicare dei fermi a una ruota con un mattoncino un pezzo di legno e sarete tranquilli non azionate anche il freno a mano diverso è il discorso se la vostra auto è parcheggiata all'esterno non abbiamo avuto modo magari di cercare trovare il parcheggio perfetto quello che ci piace tanto e quindi abbiamo dovuto lasciare la nostra auto così in un parcheggio a righe bianche blu adesso ci sono anche delle facilitazioni per le soste non si paga il parcheggio in alcuni casi in molti casi comunque in ogni caso potrebbe non essere in piano allora in tal situazione marcia inserita e freno a mano va bene se volete essere ulteriormente sicuri perché magari la macchina in un parcheggio in una posizione molto inclinata potete anche sterzare le ruote alla san francisco maniera vi fanno la multa se non lo fate a san francisco verso il marciapiede nel senso io sono posizionato in discesa muso in giù marciapiede sulla destra giro tutto a destra in maniera tale che la ruota abbia come fondamentalmente come blocco il marciapiede qualora il cambio dovesse mollare il freno a mano anche avete il marciapiede che vi frena la vettura e siete tranquilli se non vi piace lasciare per lungo tempo il freno a mano perché avete paura delle ghiacciate ormai non dovrebbe più ghiacciare ma comunque avete paura che si vada a bloccare il ponte posteriore del vostro freno magari quelli a tamburo piuttosto che quelli a disco ogni giorno ogni due giorni uscite fate 10 cm avanti 10 cm indietro con la vostra auto in maniera tale da fare anche girare un po tutto e poi rimettete il vostro freno a mano e comunque stiamo vivendo una situazione nuova per tutti di conseguenza ogni caso ogni auto ogni guidatore ogni appassionato ogni automobilista è a sé va bene questo momento finirà e speriamo veramente di tornare a guidare il prima possibile è certo che se avete la fortuna di avere due auto e lavorate ancora perché siete autorizzati e dovete farlo a proposito grazie potete utilizzare un giorno una macchina un giorno un'altra macchina d'accordo così da protrarre la loro efficienza il più possibile se invece come me dovrete stare quanto più possibile in garage io resto a casa lei sta in garage però insieme possiamo anche rimanere nel vialetto di casa no che è già qualcosa ciao ciao Buongiorno. Buongiorno.